La panchina antimafia di Bitonto è tornata al suo posto. In attesa di individuare gli autori dell'atto vandalico, quella che doveva essere un presidio di legalità è diventata anche un simbolo di riappropriazione contro l'inciviltà. La città buona, la città che lavora, la città operosa, si riappropria delle piazze che sono di tutta la comunità del nostro territorio, della nostra città di Bitonto. Loro si sentono i padroni di questa piazza, questa minoranza si sente i padroni e spadroneggia. Noi non possiamo assicurare il controllo H24, il territorio è vastissimo, 174 chilometri quadrati con le forze davvero risicate. Occorre la collaborazione di tutti, occorre rifare, ripensare ad un grosso progetto partecipativo, educativo di prevenzione. La panchina era stata vandalizzata ieri, poche ore dopo l'installazione. È dedicata alla memoria di tutte le vittime innocenti di mafia, come Anna Rosa Tarantino, che sette anni fa moriva proprio nel centro del Borgo Antico di Bitonto, colpita da un proiettile durante una sparatoria tra malavitosi. L'episodio della panchina ha sollevato il caso sicurezza in città. Per il sindaco però anche i cittadini devono fare la loro parte. Noi cerchiamo di essere presenti sul territorio, ma abbiamo la necessità che i cittadini collaborino. La cosa più eclatante di ieri, quando hanno rimosso la panchina, quando hanno tolto questa panchina e quando sono arrivato io, è che nessuno aveva visto nulla. Questo clima di omertà non deve esserci più. Dobbiamo tutti quanti collaborare per la crescita di questa nostra comunità. Il ripristino della panchina antimafia rappresenta anche una risposta da parte delle istituzioni, che ribadiscono l'impegno nei confronti della città. Noi non molliamo, non molliamo mai. Siamo vicini a Bitonto, le istituzioni rispondono in modo compatto a qualsiasi offesa venga portata alla civile convivenza, alla crescita di un territorio. Oggi rappresenta una giornata, è un simbolo di un impegno e di una presenza costante sul territorio di Bitonto.